Quale impatto, a suo avviso, può avere la co-innovation nelle industrie creative e nel made in Italy? Racconto brevemente che cos'è Open Design School, perché secondo me è importante inquadrare come è nato e in che contesto è nato. Open Design School è un laboratorio di prototipazione e progettazione che è nato nell'ambito di Matera 2019, capitale europea della cultura. Quindi nasce nel 2014 in un contesto prettamente culturale che però ha riconosciuto il valore del design, soprattutto in termini di processo, come fondamentale per una capitale europea della cultura che è alla fine, nell'anno in cui si compie, per noi è stato il 2019, un grande festival che però necessita di dieci anni di preparazione e investe tutta la città nelle sue infrastrutture, ma anche la città in termini di tessuto sia sociale che imprenditoriale. L'idea quindi alla base di Open Design School è stata quella che anziché importare o noleggiare le strutture necessarie per gli eventi del festival è stata quella di autoprodurle internamente, mettendo su un laboratorio di design, in modo tale appunto da riprendere un po' la cultura del design in città. Questo perché Matera ha avuto una grande tradizione, il distretto della Murgia, una lunga tradizione ventennale in ambito manifatturiero perché siamo stati per più di vent'anni il polo del salotto italiano, facendo un po' da contraltare al polo lombardo. Però qui si sono sviluppate una serie di eccellenze artigiane che sono poi rimaste inutilizzate o sottutilizzate in virtù della crisi globale che ha coinvolto tutti i mercati e in particolare il settore del salotto. Quindi anche in virtù del fatto che c'era già un substrato fertile e per recuperare tutte queste eccellenze artigiane e sostenere la nuova generazione di maker è nata Open Design School. Open Design School ha un modello aperto, dichiaratamente aperto, perché lavora su modelli open source. È un laboratorio multidisciplinare perché riunisce diversi tipi di professionisti e un luogo di ibridazione fra arte, scienza e tecnologia. Abbiamo lavorato veramente mettendo insieme diverse categorie professionali proprio perché crediamo che la multidisciplinarietà sia un valore ormai indispensabile per poter ragionare su progetti complessi. Il modello Open Design School si basa su gruppi che sono costituiti da un terzo per un terzo da professionisti locali, un terzo di professionisti italiani e un terzo di professionisti europei. Questo perché avere questo bilanciamento ci consente di portarci comunque la cultura materiale e immateriale del luogo in cui siamo, che appunto è Matera della Basilicata. Ci permette di attrarre talenti da tutta Italia e quindi favorire scambi con altre realtà italiane e a livello europeo ovviamente consente anche lì di portarci qui a Matera delle persone provenienti da tutta Europa che a loro volta portano con sé diversi tipi di esperienza. Quindi questo incontro favorisce non solo un arricchimento reciproco ma fa sì che poi si creino delle reti solide fra le persone. Quindi sono reti proprio umane che resistono e stanno resistendo ben al di là del tempo che uno può trascorrere ad Open Design School. È anche un modello molto dinamico perché le persone che lavorano con noi non lavorano con noi per lungo tempo ma ogni volta che dobbiamo realizzare un nuovo progetto selezioniamo un nuovo gruppo. In questo modello, questo modello diciamo è molto aperto e flessibile non appartiene esclusivamente ai professionisti. Dal nostro punto di vista i professionisti sono le persone che hanno competenze. È un modello diciamo diverso da quello dell'università. Quindi ad Open Design School vengono le persone che dimostrano di avere competenze anche al di là delle certificazioni. Questo appunto consente a tutti di mettere a disposizione la propria conoscenza e di scambiarla con gli altri alla pari. È un modello non gerarchico. Ad Open Design School non c'è una gerarchia diciamo prestabilita. Non ci sono, per quanto si chiami school, non è una scuola, quindi non abbiamo docenti ma ci sono semplicemente, diciamo, oltre a me che coordino tutto l'andamento della scuola ci sono dei coordinatori che fungono un po' da facilitatori dei gruppi multidisciplinari. In questo modello aperto noi abbiamo un laboratorio ben attrezzato che è il cuore di Open Design School perché alla base della progettazione per noi c'è la prototipazione che quindi è un processo fondamentale di apprendimento perché consente di verificare gli scenari progettuali che si sono disegnati non solo di verificarli ma anche di crearne di nuovi o di cambiare completamente direzione perché appunto non c'è mai un'unica soluzione predeterminata rispetto a quello che si vuol fare e la prototipazione è un processo fondamentale perché, diciamo, diventa anch'essa un processo di apprendimento, di verifica e di scambio di nuove competenze. Nonostante abbiamo questo laboratorio abbiamo scelto sin dall'inizio di lavorare con le aziende e gli artigiani locali anche perché Matera è una piccola realtà che non ha una, diciamo, grandi aziende è fatto, diciamo, un tessuto imprenditoriale fatto di piccole, piccolissime imprese per cui Open Design School non si è messo assolutamente in concorrenza con le imprese per quanto abbiamo scelto dall'inizio di collaborare con loro e laddove, diciamo, ci servissero forniture esterne di non considerare i fornitori come dei fornitori ma come parte del gruppo di lavoro per cui anche lì abbiamo garantito, fatto in modo che gli artigiani o gli imprenditori che lavoravano con noi partecipassero di questo processo di scambio per cui c'è stato, diciamo, appunto un meccanismo virtuoso per cui noi abbiamo appreso da loro e viceversa. Loro hanno acquisito nuove conoscenze e nuove competenze che arrivavano invece dai professionisti con cui stavamo lavorando. Anche la comunità della cittadinanza, quindi la comunità, diciamo, generica è stata coinvolta in questo processo attraverso dei rituali settimanali che sono, diciamo, open talk e open review per cui ogni settimana, diciamo, la comunità è invitata a venire alla scuola per conoscere quello che si sta facendo dare dei commenti, dei feedback sui progetti che si stanno sviluppati. C'è un settore abbastanza sviluppato che è quello dell'artigianato artistico quello su cui sicuramente qui si può lavorare e stiamo iniziando a lavorare già, diciamo, in realtà da diversi anni, ci sono stati diversi tentativi negli anni, diciamo, che adesso anche Basilicata Creativa sta provando a portare avanti quello che, diciamo, il modello su cui si può fare è innanzitutto ragionare appunto con queste piccole e micro imprese come se fossero una grande industria diffusa sul territorio che significa però, appunto, andare a fare una mappatura puntuale dei macchinari, dei materiali che si possono lavorare delle competenze presenti, degli scarti di lavorazione che in ottica di economia circolare ma anche di design sistemico possono diventare nuova risorsa per le aziende che fanno parte appunto di questa grande mappatura e quindi completamente innovare il modello industriale e aziendale. Aggiungo anche un'altra cosa dal mio punto di vista sempre sulla base della mia esperienza è necessario sempre più e qui, diciamo, sempre con Basilicata Creativa e anche con Open Design School abbiamo iniziato a fare questo lavoro è fondamentale portare l'industria culturale creativa nell'industria produttiva e manifatturiera perché è fondamentale? Perché l'industria culturale creativa appunto porta con sé la creatività porta il pensiero laterale il professore prima ha citato ha fatto vedere l'immagine della matita messa tra i capelli che è una cosa che io faccio sempre per dire quello è pensiero laterale nessuno, diciamo, avrebbe mai immaginato appunto che una matita si potesse usare come fermaglio in realtà se si fa leva sulla creatività e se attraverso gli artisti creativi si mettono le persone in condizioni di, diciamo, tirare fuori quel grado di creatività e aprire la mente rompere, diciamo, le frontiere rompere le barriere tra i vari settori perché questo è un altro problema che noi abbiamo, no? La diversità dei linguaggi è estremamente, diciamo, complicato far dialogare dei mondi così diversi anche nell'ambito dei stessi settori produttivi un grande imprenditore ha un approccio completamente diverso dei linguaggi diversi rispetto a quelli di un imprenditore molto piccolo c'è quindi tutto un sistema, diciamo, di facilitazione o come, diciamo, dicono adesso usando un termine che a me comincia ad affascinare di cultural brokerage di queste nuove figure professionali che vanno a fare l'ibridazione tra i vari settori dei linguaggi è fondamentale però appunto che il sistema diventi sempre più partecipato e aperto e che veramente rompiamo i confini fra i vari settori del mercato è l'industria culturale e creativa è un'industria perché produce reddito non è più solo intertenimento la cultura non è intertenimento è un settore produttivo fondamentale l'Italia ha delle punte di eccellenza da quel punto di vista quindi vanno assolutamente messe a regime